Kamala Harris, la vicepresidente americana, oggi promuove un radiotelescopio in Sudafrica. Sulla fame, sulla corruzione, sugli psicopatici, sul controllo delle masse, sulla disinformazione. Per chi non ha ricevuto l'invito dalla pagina web Staff Only del sito web www.tinelli.eu, inserendo la vecchia password, trovate le info per accedere al prossimo incontro.